Introduciamo ora questo nuovo componente, che è il controller Bluetooth per programmare direttamente dei comportamenti da fare sull'embot utilizzando il joystick di questo controller o i pulsanti. Come si fa a programmare questo controller? Metto poi nella reference direttamente la quick guide. Qui ci viene direttamente mostrato sia la parte di connettività, sia il fatto che bisogna andare ad includere all'interno del nostro codice su Makeblock il componente Bluetooth. Andando qui nella parte extension, ecco qui, abbiamo il Bluetooth controller che dovrà essere aggiunto, io già ce l'ho aggiunto all'interno del mio codice. E una volta cliccato sopra questo Bluetooth controller appariranno i nuovi componenti che si potranno utilizzare. Importante, bisogna trovarsi in modalità upload, non in modalità live. In modalità live i componenti non potranno essere utilizzati, quindi bisogna per forza trovarsi in modalità upload. All'interno di questa reference viene fatto direttamente anche un piccolo esempio di come programmare, oltre a scaricare direttamente il codice. Una volta fatta la programmazione bisogna fare l'upload direttamente del programma sul nostro M-Bot. Dopodiché bisogna accendere il Bluetooth controller e cliccare sul pulsante Bluetooth per poter fare il pairing con l'M-Bot stesso. Quindi qui sotto c'è il pulsantino direttamente on-off e qui sopra abbiamo direttamente il pulsante per fare il pairing. Quando la luce sarà fissa significa che c'è stato il pairing che è stato fatto correttamente. Ora andiamo a vedere direttamente il codice che ho sviluppato, modificando un po' il codice già presente nel sample. Allora intanto trovandoci nella modalità upload abbiamo quindi l'M-Bot Core Startup che deve essere utilizzato e qui per sempre cosa si fa? Allora questa prima parte di codice gestisce direttamente l'utilizzo del joystick di sinistra, left, y e x, per gestire la potenza sui motori di sinistra e di destra. L'M-Bot ha due motori, uno a destra e uno a sinistra, per gestire, ecco qui, il movimento. E quindi il joystick, in questo caso quello di sinistra, viene utilizzato per gestire direttamente la potenza di questi motori. Questo è direttamente il codice preso dal sample che ci è stato fornito. Dopodiché abbiamo, cliccando sulle frecce, alto, basso, destra, sinistra, muoviamo in avanti, indietro, a sinistra e a destra il nostro M-Bot. I pulsantini sono questi, quindi alto, basso, sinistra, destra. Dopodiché abbiamo la possibilità di gestire direttamente i pulsanti 1, 2, 3, 4 e in questo caso ho scelto di azionare delle colorazioni, quindi spingendo questi pulsanti 1, 2, 3, 4. La nostra board qui si illuminerà di colori differenti, altre viene direttamente tolto ogni colorazione. Quando il pulsante L1 è premuto per sempre, quindi per mille volte sostanzialmente, viene fatto un turn left, quindi gira su se stesso verso sinistra, con R1, quindi R1 e R2 sono i pulsanti che si trovano qui, direttamente, eccoli qui. Quindi R1 e L1 sono quelli che ci consentiranno di gestire questa rotazione su se stesso del M-Bot. Dopodiché, se invece premiamo il pulsante L2, c'è una musichina che viene fatta, quindi c'è un play note, R2, quindi qui è una musica ascendente, qui discendente. Dopodiché ho anche fatto semplicemente un settaggio sul sensore a ultrasuoni, che si trova qui collegato sulla porta 1, di fare un rumore se per caso, diciamo, ci si trovano a distanze inferiore ai 10 cm. Quindi fatto questo sostanzialmente, come si deve agire? Allora, intanto colleghiamo direttamente il nostro M-Bot, quindi facciamo la connessione. Una volta che la connessione è avvenuta, facciamo quindi l'upload del nostro codice. Quindi in questo momento si sta direttamente caricando il tutto sull'M-Bot stesso, e quindi una volta che è tutto caricato, potrei anche scollegare direttamente il cavo dal mio PC, perché in realtà il codice è già presente qui sulla board. A questo punto cosa faccio? Vado ad azionare direttamente il pulsantino di connessione del Bluetooth. Era già stato fatto un pairing precedentemente, vediamo se lo riconosce subito in automatico, sì, quindi non c'è bisogno che mi spingo il pulsante di Bluetooth. Quindi in questo caso il pairing è avvenuto correttamente. Quindi come vado ad agire? Beh, facciamo direttamente non tanti movimenti, anzi proviamo direttamente il movimento. Vedete? Muovo il joystick e quindi si muove. Questo rumore che sentite è perché sto mettendo direttamente la mia mano a una distanza inferiore di 10 cm, quindi sta partendo questo suono qui. Se spingo i pulsantini qui, ci saranno delle musiche che vengono fatte ascendenti e discendenti. Dopodiché questi pulsantini qui invece accendono e spengono la board.